Questa ve la devo proprio raccontare. Qui in Sicilia si dice cacu mangia patati non mori mai. Beh, se è vero non lo so, ma a me piacciono tantissimo e nel dubbio le cucino spesso. Le adoro semplicemente bollite in insalata o fritte e delle crocchè, vogliamo parlarne? Ma le mie preferite in assoluto sono così, cotte al forno, croccantissime fuori e morbidissime dentro. Non mi nascondo che ci ho messo un po' per trovare la quadra giusta, ma alla fine ci sono riuscite. Tutte le prove ne sono valse la pena. Adesso questa ricetta non la cambio più. E vi dico di più, convince anche i palati più esigenti, quelli dei miei nipoti, che tutt'oggi credono che queste patate qui sono fritte, pensate un po'.